Benvenuti, benvenuti. Come stanno? Svilupperemo una quarta sessione. Questo incontro proseguirà quanto abbiamo fatto ieri nella sezione 3, sviluppando gli interventi effettuati dal Comitato Tecnico di Saldatura ASME in merito all'articolo 2. Questo articolo è l'articolo che copre tutte le informazioni sulle qualifiche procedurali specifiche dei soldati. Gli interventi del Comitato Tecnico di Saldatura sono importanti perché con ogni nuova versione ci sono interventi. Ricordiamo che gli interventi riguardano la revisione totale, la revisione parziale, le aggiunte e le cancellazioni. A volte ci sono nuovi tavoli. In questo codice ASME sessione 9 edizione 2023 è stato aggiunto un articolo, l'articolo 6. Prima della precedente edizione l'articolo 6 non esisteva, sto parlando dell'edizione 2021. In questo senso vediamo chiaramente che questo codice viene aggiornato. Qual è il motivo dell'aggiornamento del codice? È il progresso tecnologico, l'emergere di nuovi materiali, nuovi metalli che contribuiscono e forse la combinazione di processi. Questo perché la saldatura è ora una scienza. Ok, nella quarta videoconferenza continueremo a sviluppare i contenuti relativi al secondo articolo. Lo strumento per ricordare questo codice. Ci sono alcune ottime funzionalità su come trovare informazioni in modo più pratico e veloce. Diamo un'occhiata alle modifiche di sintesi relative alla somma delle modifiche. Ieri non abbiamo sviluppato QWO 217, ok QWO 217, quindi andiamo alla pagina 4, nella pagina 34, nel codice del piedipagina. Ma nel motore di ricerca digitale di PDF è a pagina 84. Questo è importante perché in questo modo questo strumento o questo servizio ci aiuta a trovare rapidamente le informazioni. Manuel Quadra ti manda i suoi saluti. Allora sviluppiamo il nostro compito di oggi. Beh, in QWO 217 la segmentazione AIA, la decomposizione a sua volta è incerta al secondo livello. Beh, è stata modificata. Attenzione, QWO 217. Paragrafo A della sua ripartizione di secondo livello è stato rivisto e rivisto. Il paragrafo B di questa parte delle buone pratiche copre l'incollaggio dei materiali CLAF. O'Clayding è un materiale con un rivestimento che può essere un altro materiale di rivestimento aderito per mezzo di saldatura a tappo o la saldatura stessa. Il materiale CLAF è considerato nelle specifiche di ASME. Poiché si tratta di materiali rivestiti per alcuni campi industriali, refrigeratori, ad esempio nel settore nucleare o in altre discipline o in altri campi industriali, materiali che necessitano di una protezione esterna in qualche modo, vale a dire. Il materiale ha uno scopo in sé. Il materiale di cui parliamo è il nucleo del materiale, ma ha bisogno di una protezione esterna, sia direttamente attraverso una piastra adesiva, saldato tramite una saldatura a tappo, oppure attraverso la saldatura stessa. Quindi vedremo la sottosezione A rivista nel QW 217. Ok, così possiamo capire l'ambito dell'ultima versione. Il paragrafo A porta alcune informazioni rilevanti, quindi aggiorniamo da ora in poi. Ok, aggiungiamo le competenze. Da questo momento vediamo, a pagina 84, l'intervento effettuato nel QW 217, Unione dei materiali di rivestimento. Il paragrafo A che è stato rivisto dice il metodo A dice, qui siamo andati direttamente al secondo paragrafo del secondo livello, sotto per quanto riguarda il materiale di rivestimento o il metallo di base di rivestimento, il buono di prova per l'ammissibilità della procedura. Sarà effettuato utilizzando lo stesso numero di metallo base non assegnato relativo al rivestimento, all'elemento legante nominale principale o alla composizione chimica, che viene utilizzato per i processi di saldatura e per i processi di riempimento, nonché per le combinazioni di metalli specificate nell'WPS. Facciamo una spiegazione qui a causa di questa applicazione. Applicazione di saldatura o rivestimento. Ha una certa complessità, ma non è intrinsecamente così complessa come sembra. A tal fine è necessario comprendere il significato delle cifre PO e l'interpretazione di questa parte relativa alla lettera A della sezione 9 delle specifiche ASME. O il paragrafo A della nota a piedi pagina secondo afferma quanto segue nella qualificazione della procedura di saldatura da applicare come rivestimento metallico di base che deve essere protetto da alcuni degli svantaggi inerenti alla sua installazione, considerando quanto segue in primo luogo bisogna considerare la colorazione blu della provetta o del coupon di valutazione della procedura. deve utilizzare lo stesso penum o lo stesso metallo in base al suo penum o metallo non assegnato. Il termine metallo non specificato può essere il caso in cui materiali non elencati, materiali non considerati nella tabella QW 422, possono essere adottati o utilizzati mediante prove. Per farlo dobbiamo guardare al codice edilizio. Per vedere i materiali elencati nella tabella QW 422 a quale materiale potrebbe appartenere il materiale, cioè la presenza di materiali non elencati, ciò non significa che non possano essere utilizzati, possono essere utilizzati ma devono essere seguiti i protocolli di test non distruttivi per determinare a quale gruppo possono appartenere i materiali non elencati. Ok, ora per quanto riguarda il rivestimento, cioè la composizione chimica del rivestimento deve essere considerata compatibile con il substrato in modo da avere una saldatura soddisfacente del rivestimento. Quindi meditiamo alla luce di quanto segue. Per quanto riguarda il materiale di rivestimento si intende il prodotto finito? No, non lo consideriamo un materiale nudo, ma un materiale già utilizzato come rivestimento finito. Ok, quindi per quanto riguarda il materiale di rivestimento, in questo caso il metallo di base che ha già il rivestimento, sarà sottoposto alla prova di qualificazione del processo utilizzando la stessa quantità dello stesso materiale. Appartiene a gruppi specifici o metalli comuni non specificati, che si riferiscono al rivestimento e agli elementi leganti nominali principali e alla composizione chimica. Deve essere presa in considerazione la compatibilità relativa ai processi di saldatura e di riempimento, nonché la considerazione e il rispetto delle combinazioni metalliche specificate. In WPS questo è stato modificato. Nella versione 2023 abbiamo visto il paragrafo A o la sottocomma nota 2, ma c'è anche una revisione del paragrafo B che vedremo di seguito. Il paragrafo B è stato esaminato anche dal comitato tecnico di saldatura dell'ASPE. Passiamo ora al metodo B e identificiamo questo intervento. Poiché questa parte del codice non è stata modificata, anzi ha ricevuto una revisione e abbiamo chiaramente inteso che la commissione per la saldatura si è ribadita nelle informazioni che stiamo attualmente osservando. Ora visualizziamo, andiamo più in profondità a questo problema, perché vediamo due tipi di approcci. Vengono utilizzati per realizzare giunti rivestiti o per fare saldatura, che per quanto riguarda il termine plat o playing è un materiale rivestito, come ho appena detto, un materiale che può essere materiali di base sovrapposti, fogli collegati da saldatura a tappo. Questo è il rivestimento o forse la saldatura stessa? Ok, il metodo B ci dice quanto segue, a cui dobbiamo prestare attenzione ora. Nota 1, si precisa che le variabili di base e non di base di QDU Blue 250 saranno applicate ad ogni processo di saldatura utilizzato nella produzione o utilizzato per collegare le parti del metallo base della saldatura. Il PQR è un record di valutazione del processo che supporta questa parte del VPS e non richiede la necessità di fare affidamento su campioni di prova realizzati con metalli rivestiti che saldano parti resistenti alla corrosione. Il punto qui è che le variabili saranno applicate in conformità con QDU 251.4 e il coupon di prova e il test sarà effettuato. Secondo il modulo QW 453, questo è il quarto articolo. Di conseguenza il WPS sarà limitato dalla profondità della scanalatura che riceverà uno strato resistente alla corrosione per garantire lo sviluppo della resistenza totale della saldatura sottostante nel metallo di base. Metodo B specifica due cose importanti. La cosa più importante qui è che il BWPS deve soddisfare le disposizioni di QW 250 per quanto riguarda le sue variabili di base. Questa parte del QW 250 riguarda le qualifiche dei saldatori ok. In questo caso quindi per essere espliciti devono essere applicate le variabili che sono fondamentali per il saldatore. Per ciascun processo di saldatura che verrà utilizzato in produzione per eseguire queste saldature di superficie. Ok, ora il programma di saldatura qualificato PQR, hai il record di qualificazione del tuo programma e sarai supportato da WPS ma questi PQR non devono essere basati su un coupon di prova. Realizzato in metallo rivestito per parti di copertura resistenti alla corrosione. In questo caso quindi il punto è che il buon PQR sarà applicato secondo le variabili del QW 251.4 che è ancora il secondo articolo e in relazione al coupon di prova la prova da eseguire dovrà essere conforme al modulo QDA BABU 453. Questo è il numero quarto. Esamineremo queste tabelle in seguito in modo da poter visualizzare ciò che il codice in questa parte del metodo B esprime in relazione alla tabella QDA BABU 453. Infine per continuare a notare 2, il WPS deve essere limitato alla profondità della scanalatura. La profondità della scanalatura riceverà uno strato resistente alla corrosione per garantire lo sviluppo della resistenza della saldatura sottostante nel metallo di base. Prima di sviluppare gli interventi che avvengono nel secondo livello di decomposizione passiamo alla tabella per poter visualizzare le immagini che il codice ci mostra a questo punto. Questo è il modulo QDA BABU 453. Questa è la tabella QDA BABU 453 che abbiamo appena citato nel metodo B e siamo in questa tabella per poter sapere quali test devono essere effettuati su questi campioni. Per classificare la superficie secondo il metodo BDQBVD 217 questa è la tabella QDA B2B A453. Siamo ora nel quarto articolo che è una tabella sulle procedure di qualificazione delle prestazioni di campioni basati su limiti di spessore e rivestimenti duri o rivestimenti resistenza all'abrasione e alla corrosione. Il termine prestazione nell'ambito di un M9 significa l'abilità del saldatore. Le prestazioni o le prestazioni spiegano sostanzialmente le qualifiche di un saldatore. Quindi questa tabella ha un doppio significato. Questa tabella non serve solo a valutare il processo di saldatura come ne abbiamo parlato nel secondo articolo, ma anche da qui si possono vedere le prove meccaniche o non meccaniche e il numero di campioni che devono essere utilizzati. Anche per qualificare il saldatore, cioè la tabella soddisfa entrambi i requisiti. I requisiti qui specificati servono alla valutazione dei processi di saldatura in cui si applicano rivestimenti duri o rivestimenti corrosivi o anticorrosivi in tali casi, ma la tabella fornisce anche i requisiti per la valutazione delle prestazioni in tali casi. Saldatori che utilizzano processi manuali o semiautomatici o operatori di saldatura che utilizzano processi meccanici. Ok, allora diamo un'occhiata a questa tabella ora. Sul bordo sinistro dello schermo abbiamo lo spessore dei coupon di prova. Nella parte superiore abbiamo un rivestimento che in questo caso è resistente alla corrosione. Sul lato destro abbiamo un rivestimento di superficie dura, quindi nella parte sinistra abbiamo il metallo base nominale rispetto allo spessore, quindi abbiamo il tipo e la quantità di test richiesti nella sezione centrale e poi da questo a questo da qui alla corrosione. Ok, da questo lato c'è corrosione, dall'altro lato c'è corrosione. Per l'applicazione del rivestimento duro abbiamo il metallo base nominale e lo spessore qualificato, abbiamo anche sul lato destro il tipo e la quantità di prove necessarie per qualificare queste procedure. Nella parte centrale abbiamo il test di valutazione del programma, qui mostrerà lo spessore di meno di un pollice a più di un pollice. Qui è meno di un pollice, in questo caso uno spessore o più andrebbe bene. All'interno di questa gamma abbiamo spessori nominali qualificati illimitati, che sono adatti per l'applicazione di rivestimenti corrosivi. Anche qui abbiamo uno spessore limitato, in questo caso viene dal limite di un pollice e quindi abbiamo uno spessore qualificato infinito. 25 Mimia Pro e oltre. Questo è legato all'applicazione del rivestimento, in questo caso anticorrosione. Ok, ok, il metodo di prova non distruttiva che stai chiedendo qui è il permeato. Richiede inoltre due curvature laterali o trasversali e due curvature trasversali e longitudinali o nelle loro controparti per qualificare il processo mediante applicazione di rivestimenti duri o in caso di corrosione sono necessarie quattro prove di curvatura trasversale. Questo qualificerà la procedura e qualificerà le competenze del saldatore. Beh, provalo, richiedi un test di valutazione delle prestazioni. Quello che stai chiedendo sono due test di flessione laterale per ogni posizione e se vogliono applicare il rivestimento in posizioni diverse. Ok, ci sono due curve laterali in ogni posizione e il saldatore deve essere qualificato in questa posizione. Questo è legato all'applicazione di rivestimenti resistenti alla corrosione. Ok, a destra vediamo un'altra applicazione. In questo caso viene utilizzato anche per applicazioni di rivestimenti duri o rivestimenti duri o antiabrasione. Bene, qui è mostrato il metallo di base nominale rispetto al suo spessore nominale OCA. A destra il tipo e il numero di prove necessarie per l'ammissibilità come procedura specificata per l'applicazione del rivestimento duro nella saldatura. Per quanto riguarda la procedura di qualificazione per superare la prova o la prova, richiederai qui, per quanto riguarda lo spessore qualificato fino a un pollice, non realmente, illimitato o illimitato fino a un pollice bene, richiederai i seguenti test. Liquido penetrante o lettura della durezza K3 per ciascun campione più macroerosione o macro test. Ciò è legato alla qualificazione di un processo specifico, ossia la saldatura per applicare un rivestimento duro o un rivestimento anti-usura, cioè in relazione al processo, ma anche alla qualificazione tecnica dell'operatore o del saldatore. Bene, lo spessore sarà regolato. Da uno spessore qualificato a uno spessore infinito sarà di 25 pollici e da lì in poi sarà un saldatore qualificato e un requisito di abilità qualificata. È un liquido osmotico e macroesano. Di conseguenza la tabella mostra ciò che il QWW217 è incarnato nella sotto comma A della nota second condo della disaggregazione, che a tal fine si trova nella disaggregazione di primo livello nel metodo B. Questo è ciò che il codice richiede o richiede di qualificare il processo. Dove si applica questo? Va bene. Se abbiamo un lavoro o un servizio di cui abbiamo bisogno, come il rivestimento di alcuni materiali o parti di alcuni componenti di un'attrezzatura, allora queste procedure devono essere qualificate. Questi rivestimenti o rivestimenti possono essere applicati in automatico, inclusa la miscelazione, tramite un processo di saldatura manuale. Quindi questa è la tabella QW453. Siamo qui perché il codice lo richiede. Ok, ora c'è una cosa interessante che dobbiamo considerare. Nel caso di specie, l'emendamento indicato nel codice AMU-BW217 è il paragrafo B, ad esempio il paragrafo B ha diverse suddivisioni. Segmento B lo dipingerò di blu e abbiamo una seconda decomposizione nel segmento B che sarà 1K e poi ha un'altra seconda decomposizione che sarà 2, ma ecco anche altre suddivisioni di terzo livello, meno A, meno B, meno C, meno D tra parentesi. Per quanto riguarda i riferimenti incrociati, raramente ci rendiamo conto che anche in questo caso ogni paragrafo può avere una suddivisione primaria, secondaria o terziaria. Questo è il caso del metodo B in QW217 che è stato modificato. Vediamo cosa ci mostra la decomposizione del secondo livello 2 per non far passare queste informazioni. Poi vedremo la decomposizione ABC di IE a terzo livello per la valutazione delle cuciture unilaterali in cui il rivestimento è situato nella zona radicale. I metalli di base e i rivestimenti devono essere valutati separatamente in conformità con i requisiti di QW202.2. Tuttavia i materiali di rivestimento possono essere utilizzati per la valutazione secondo le regole del metodo A, con le seguenti eccezioni. Si noti questo in cui non sono specificati gli intervalli di spessore ammissibili per i metalli semibase o di rivestimento e i metalli di riempimento utilizzati per la saldatura di ciascun materiale. Esse devono essere basate sullo spessore effettivo del campione di prova per ciascun materiale, ovvero il metallo di base più il rivestimento. Possiamo applicarlo esplicitamente guardando al QW451. Queste informazioni sono destinate ai professionisti che attualmente utilizzano rivestimenti duri o anticorrosivi. Queste informazioni sono per loro. Bene, i criteri di accettazione per le prove di trazione, come abbiamo visto nella tabella QW453 che richiedono prove distruttive, saranno basati sulla resistenza alla trazione di penne ambrate o materiali non specificati. Cioè la prova di trazione deve essere determinata in base alle proprietà del substrato e non in base alle proprietà del materiale di rivestimento C. Sì, i criteri di accettazione per la prova di attrazione saranno basati sulla forza di attrazione di materiali secondo supernumber o senza materiale specificato. Abbiamo spiegato cosa significa quando dà il termine non assegnato. La decomposizione del terzo livello D indica che, se necessario, verrà eseguita un'analisi chimica secondo QW216.2. Infine, il terzo livello di suddivisione ci dice che la variabile QW250 del saldatore è applicabile al metallo base, al rivestimento e al metallo di riempimento. In questo modo possiamo comprendere la revisione completa data in QWW2CO17. Segmento A o K, sezione B nella sottodivisione di primo livello 2 e nella sottodivisione di primo livello 1 e nella sottodivisione di secondo livello e nella sottodivisione di terzo livello ABCDI. Continuiamo a portare avanti lo sviluppo di questo corso di competenze per aggiornare il libro 9 di caldaie e recipienti a pressione asme. Passiamo alla prossima riunione. Sezione 5 stiamo già sviluppando le tabelle, che sono state anche riviste e aggiunte altre tabelle. Andiamo avanti. Saluti!